Ovviamente il fatto che Fratelli d'Italia sia il primo partito in Italia significa tante cose, tante cose per tanti di noi, questa è sicuramente per tante persone una notte di orgoglio, è sicuramente una notte di riscatto, è sicuramente una notte diciamo di lacrime, di abbracci, di sogni, di ricordi, è una vittoria che io voglio dedicare a tutte le persone che non ci sono più e che meritavano di vedere questa nottata, però...